Nel Temila Acquistare, tra i fiumi giallo e azzurro in Cina, si svilupparono comunità di agricoltori e allevatori. Questa regione, grazie alle inondazioni dei fiumi, era particolarmente fertile. Il fiume giallo trae il suo nome dal colore giallognolo dovuto al limo delle sue acque. Intorno al 1800 Acquistare, emersero i primi regni governati da dinastie in competizione. Nel 221 Acquistare, il principe Qin Shi Huang unificò questi regni in un unico impero, diventando il primo imperatore della Cina. L'impero cinese durò fino al 1912 d.C., quando la Cina divenne una repubblica. I cinesi si dedicavano principalmente all'agricoltura, costruendo canali per irrigare campi lontani dai fiumi e utilizzando terrazzamenti sulle montagne per coltivare riso, soia, miglio e miglio migrante. Allevavano anche bovini, cavalli, maiali e bacchi da seta, da cui ricavavano fili per tessuti pregiati. Gli artigiani cinesi producevano oggetti in ceramica, canna di bambù, bronzo e giada, rendendoli lucidi e impermeabili con ceralacca. Molti di questi prodotti venivano esportati verso l'Asia e il Mediterraneo da mercanti cinesi che viaggiavano lungo le vie carovaniere, con la via della seta come la più importante. Questo rottame commerciale prendeva il nome dal prezioso tessuto che solo i cinesi sapevano produrre. Gli imperatori cinesi avevano un grande potere e comandavano l'esercito, affiancati da un consiglio di nobili e guerrieri. Per amministrare un impero così vasto, nominavano funzionari noti come mandarini, incaricati di riscuotere le tasse e supervisionare le opere pubbliche. La popolazione era composta principalmente da contadini, ma vi erano anche guerrieri, sacerdoti, artigiani e mercanti. In tutto l'impero, vigeva la stessa legge e si parlava la stessa lingua. Le case dei cinesi erano in legno, con tetti di tegole colorate e cortili interni. Le abitazioni dei ricchi erano più grandi, decorate con colori vivaci e giardini esterni. La religione cinese era politeista. I cinesi veneravano gli spiriti dei loro antenati e alcune divinità della natura, con Shangdi come Dio supremo. La filosofia di Confucio, un grande pensatore vissuto tra il VI e il V secolo a cui stare, ha contribuito a mantenere la pace nella società cinese. Confucio ha insegnato valori come la lealtà, la sincerità e la disponibilità, fornendo indicazioni su come vivere in armonia nella società. La Cina ha una lunga tradizione di scoperte tecnologiche brillanti che ancora oggi influenzano il mondo. Ad esempio, la medicina tradizionale cinese, con l'uso dell'agopuntura e della fitoterapia, ha origini antiche. L'agopuntura coinvolge l'uso di aghi sottili in punti specifici del corpo per alleviare il dolore, una pratica ancora diffusa oggi. La fitoterapia utilizza erbe e piante naturali per scopi curativi. I cinesi hanno anche inventato la bussola nel I secolo a cui stare. Utilizzata inizialmente per orientarsi durante la navigazione in mare aperto. Questa bussola era composta da un cucchiaio di un minerale magnetico montato su una tavola di bronzo, indicando il nord e il sud. La Cina, con il suo vasto impero, ha dovuto affrontare molte lingue diverse nei vari villaggi. Per superare questa sfida, i cinesi hanno sviluppato un sistema di scrittura comune. Le prime forme di scrittura risalgono al 1500 a acquistare e sono state trovate su gusci di tartaruga e ossa animali. Questi segni iniziali erano pittogrammi, disegni che rappresentavano oggetti. Nel corso del tempo, sono evoluti negli ideogrammi, una forma di scrittura ancora in uso oggi. Un'altra grande invenzione cinese è stata la carta. Intorno al 110, i cinesi hanno imparato a produrre carta dalla corteccia degli alberi. Questa tecnica coinvolgeva l'immersione di vecchi stracci, cortecce d'albero e germogli di bambù in vasche d'acqua, trasformando la miscela in fogli di carta. Infine, i cinesi hanno creato il primo sistema di stampa a caratteri mobili della storia. I singoli caratteri erano scolpiti su blocchi di legno, immersi in inchiostro e poi premuti sui fogli, anticipando l'era moderna della stampa. Inoltre, i cinesi hanno imparato l'arte di tessere la seta, utilizzando i bozzoli prodotti dai bacchi da seta. I fili di seta intrecciati hanno dato vita a tessuti pregiati, una tradizione ancora presente oggi.